L'immobile di recente costruzione è inserito in un contesto circondato da ampio verde con vista lago. Agevoli vie di comunicazione consentono i collegamenti con i principali centri limitrofi offrendo inoltre ampia possibilità di posti auto. L'appartamento si sviluppa su due piani ed è composto al piano terzo da ingresso, disimpegno, camera, balcone e bagno, mentre al piano quarto è composto da disimpegno, soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e un balcone. Al piano terra è posta la cantina. L'appartamento è stato ultimato. L'appartamento è attualmente libero. L'appartamento è attuale. L'appartamento è attuale.